Il salomificio Fratelli Beretta da alcuni anni ha intrapreso un percorso legato alla sostenibilità, da una parte operando sui materiali di confezionamento che per il nostro settore riguardano prevalentemente le materie plastiche, dall'altra parte con il progetto intrapreso insieme a M&MN il salomificio Fratelli Beretta vuole costruire oltre alla generazione del valore che è nel DNA di un'azienda come la nostra anche una coscienza legata alla sostenibilità dell'ambiente in cui l'azienda opera e in questo caso abbiamo anche coinvolto tutti i nostri dipendenti per far crescere anche la consapevolezza di questo. Xerox crede danno nei progetti di sostenibilità, infatti oggi siamo qui nello spendo panorama di Paneveggio insieme a Salomificio Fratelli Beretta, M&MN e Reteclima per un evento di riforestazione nella zona colpita dalla tempesta Avaia. In M&MN abbiamo voluto dare un forte contributo a quello che è l'ambiente e stiamo lavorando per far sì che anche i nostri clienti operino in verso questa direzione. Infatti realizziamo con loro progetti di decarbonizzazione del parco Stamplante Xerox e anche di tutti quelli che sono i dispositivi Apple. Reteclima è un ente no profit che da più di dieci anni accompagna aziende in processi percorsi di sostenibilità e decarbonizzazione. Oggi mettiamo a dimora tanti piccoli alberi che in un futuro potranno ridare un aspetto più naturale a questa foresta. Grazie. Grazie.